... ... ... Oh, Enrico Dimmi caro E lo possiamo fare anche oggi Fai che manchè se mi dici che vi ho la dormita Come? Fai chiamare i Geffi No, no Come si chiama? Brindellone Arto Presidente Mi chiamare i Geffi E lo fa Mi dici là Io voglio andare via Perché non sono considerato Allominatore Perché se no Lo sai che succede Che vincendo domani Tengono più difensori E lui Sta a guardare partita Allora vuoi che lo diamo io O lo faccio chiamare Come ti parlo? Non lo posso chiamare No, io lo posso chiamare Categorico Ti dici Guarda Geffi Il giocatore vuole andare via Non so Tu hai parlato con Facchetti o con Geffi adesso? No, io non ho parlato Né con Facchetti Né con Geffi Con Geffi ci ho parlato ieri sera E Geffi mi ha detto questa cosa qua Mi ha detto che Lo danno via Però se dovesse andare in Coppa di Campioni Mi servono più giocatori Ma ti rendi conto Che andavate Ah, bollas Dai lì Dai lì al telefonato di Brutto Dai Sì, ti parla Un po' di chiamami Ciao